Con Boncompagni, due partite da titolare e due vittorie. Un po' una sorta di talismano questo, il tuo ingresso in campo dall'inizio? No, dai, talismano no. Due partite che la squadra è andata forte, soprattutto nel secondo tempo domenica abbiamo reagito bene, con cattiveria, con voglia di vincere la partita e strappando il risultato che meritavamo. È cambiato qualcosa nella mente vostra perché dopo due vittorie la zona playoff di fatto è agganciata, siamo soltanto davvero molto all'inizio, però rispetto a 20 giorni fa è tutta un'altra storia. Diciamo che vincere aiuta a vincere, secondo me ci mancava quello step in avanti a livello mentale che piano piano stiamo raggiungendo e domenica dobbiamo dare la conferma dei nostri passi avanti. Qual è la tua caratteristica quest'anno anche visti i tuoi compagni? Quella di essere un giocatore che si fa vedere in fascia, si smarca o che prova a gestire il pallone? No, diciamo entrambe le cose. Il mister richiede entrambe le fasi, sia il saper aspettare la palla giusta, sia il saper farsi vedere e farsi trovare i punti nel momento giusto. Seravezza, che partita sarà? Sarà una partita tosta, avversario forte di categoria che punta sempre ai piani alti della classifica e noi proveremo a strappare altri tre punti.